Gabrimiani per l'uso redivo che ancora ci delizierà con qualcosa tipo questo forse lo vuol tenere un attimino un po' a riposo e da sotto Bartoli stoppata dispersa cambio di direzione schiacciata a terra per Torriuli perché proprio Domenica giocherà in quel di Udine quindi un'accoppiata è entrato dopo il time out show aggressivo di Dalmeida ma c'è completamente dimenticato Giacomo Furin che però sbaglia segue a rimbalzo è fortunato perché dicevamo questo blocco forse un po' dubbio che porta due punti cambia lato Isotta Bartoli con la palla schiazzata per Furin che taglia dietro poi brava Cividale a crederci a trovare un canestro reverse di Bartoli all'ultimo secondo bravo Furin a segnare un'ottima bomba anche se era marcato bene da Isotta bellissima palla chiude bene in difesa Verona lo scarico per Berti che trova sulla sirena tirare l'usciore vivo ce la fa fino in fondo tira Furin va con Rota elude la pressione poi da Furin fa partire la parabola ha fa partire la code Grazie a tutti